Il centro mini basket di Pallacanestro Bageria 92 accoglie i bambini che sono nati dal 2013 al 2007. Il mini basket è prettamente un gioco sport, qui facciamo delle lezioni divise per anno di nascita ed esclusivamente ampliamo le attività motorie, relazionali perché si parla sempre di un gioco di squadra e ampliamo anche quelle attività coordinate dalla collaborazione, dall'imitazione e anche soprattutto della competizione, soprattutto sana competizione. Noi partecipiamo a tutti i trofei, quindi a un trofeo scoiattoli, pulcini, aquilotti ed esordienti. Questi bambini partecipando a questi trofei non hanno delle classifiche, addirittura non viene neanche visionato il punteggio proprio per far capire che a quest'età qualsiasi bambino deve giocare e deve saper adattarsi all'ambiente conoscendo nuovi amici e così appunto potendo sviluppare quelle attività motorie che spesso a scuola non vengono sviluppate. Noi siamo qui dal 91, operiamo nella scuola elementare Bagnera da circa 5 anni. Oltre al centro mini basket abbiamo anche i vari campionati che svolgiamo nella scuola elementare Pirandello dall'Under 13 a salire. Facciamo tutti i tipi di campionati. Grazie a tutti i tipi di campionati.